Oggi vorrei portare il nuovo Detector CareStream DR che si chiamano FOCUS 35C, con il software ImageSuite. Questo nuovo Detector è costruito per rilassare le necessità delle facilità che utilizzano X-ray film per la radiografia e vogliono dire buonanotte ai chemicali di cimicoli e aiutati di film. Oltremmo potrebbero guardare l'upgrade del CR e eliminare gli aspetti extra necessari per digitare l'immagine dei cassetti del CR. Inoltre, potrebbero vogliono accelerare il lavoro, aumentare il costo e l'efficienza e ottimizzare la qualità di immagine di immagine. Se così, potrebbe essere il momento di andare digitale e il Detector CareStream FOCUS 35C con il software di immagine di immagine dà un modo facile e affidabile di fare proprio questo. Il meglio di tutto, è un passaggio finanziario smart perché non c'è un'opportunità per rilassare per un tubo di wall stand, overhead o tavola. Inoltre, potete mantenere tutti i dati. Il Detector FOCUS 35C è un detecto di pannello flat-panel direttivo che permette di captura di immagine di immagine e accesso. Siamo ancora lavorando l'equipimento X-Ray che si tratta di software di immagine di immagine. Il Detector FOCUS 35C è la soluzione perfetta per la immagine di immagine di immagine di immagine di immagine. Il Detector FOCUS può anche proporzare capacità mini-packs e capacità all'azienda di immagine di immagine di immagine di immagine. Inoltre, se avete la necessità di proporzare immagine di immagine di film, il Detector FOCUS può essere sbagliato con uno di questi CareStream DriveView laser immagini per una soluzione completa di captura-to-print. La creazione che ifrismata è disponibile department. Usando il Kerstring Focus 35C Detector, con il modo di sensazione di bim, semplicemente acquistare l'immagine, in modo che lo faremmo con film o con cassetti. Una volta che l'immagine acquistano l'immagine, trasferisce l'immagine automaticamente via Wi-Fi alla console di Image Suite per la vostra ricerca e l'edizione. Abbiamo offerto diversi controlli di editazione, anche i strumenti avanzati. Una volta che l'immagine è finita con il software, con edizione e annotare un'immagine, potete accettare l'immagine dei mini-packs. Il mini-packs di web-based allows multiple viewing stations per riempire immagini, creare report e share them con radiologisti e clinici, dentro le stesse faciliate o rimotamente collegate. In addition to the images coming from the Focus 35C Detector, the mini-packs functionality allows to acquire images from other network modalities, such as CR, DR Rooms, CT, MRI, Ultrasound and so forth, and share them among all the web clients. By selecting a patient from the worklist, it displays the mini-packs viewer, along with the packs functionalities and the tools that the radiologist expects. ImageSuite software, along with Focus 35C Detector and bundles with laser imagers, represents an affordable solution to upgrade to digital for small and medium-sized facilities and specialty clinics. at the core of the universality at the core of the at our inter-person c- 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 C-